Balla per Mignaccio, lo faccio per Rienza, il tiro a diritto, l'arco di Franco Rienza! Esplode lo spavio con un rale di verbo, la parata passa in passato, con un gol passetto di Franco Rienza, tutta la pazzina e al centro del campo con il ruolo impazzito all'interno del centro campo ed è la chiusura più bella, una stagione assolutamente incredibile, quella professione dell'azzurna, assi di Mignaccio, tiro a giro, infilizioni, nocci dei pali di Franco Rienza, qualcosa che su questi schermi non si era assolutamente malistico, la partita dovrebbe essere finita qua, Rizconi ha fischiato, i giocatori al Milan vanno sotto la curva, ciò si trovi di Gobi, la grande parte in Milan 2-1 con un gol passetto di Franco Rienza, è tutta Bergamo, è solo! Grazie a tutti!